Il caso della possibile chiusura del pronto soccorso di Trani non è passato nel dimenticatoio. Il sindaco nei giorni scorsi ha chiesto un interessamento da parte della conferenza dei sindaci della BAT. Perché? Sì, questo si è reso necessario perché dopo quel grido di dolore che ho rappresentato ad oggi senza alcun cenno di risposta all'assessore regionale Pentassuglia con una conferenza stampa convocata con tutti i rappresentanti delle sigle sindacali e nei giorni immediatamente successivi ho verificato che la stessa situazione veniva rappresentata dal sindaco di Canosa veniva rappresentato dall'ex presidente della provincia, oggi consigliere comunale di quella città e così via ho percepito anche nell'assemblea dei sindaci un disagio veramente crescente nella tutela di un diritto che mi piace sempre evidenziare e ribadire è costituzionalmente garantito o meglio dovrebbe essere costituzionalmente garantito. E allora siccome il presidente della conferenza dei sindaci è il sindaco di Andria che ha proprio come la regione Puglia o più o meno una scadenza di mandato perché si parla di un election day nel marzo del 2015 ho scritto al presidente della conferenza dei sindaci e questa volta a tutti i consiglieri regionali eletti nella circoscrizione della provincia di Barletta-Andreatrani quindi ai quattro consiglieri regionali sia di centrodestra che di centrosinistra e ho chiesto a loro con forza di affrontare questo argomento probabilmente anche con il direttore generale. Ad oggi un riscontro non c'è ancora stato ma sono molto preoccupato perché sono io a preannunciare che se l'assessore Pentassuglia non dovesse prendere delle iniziative anche in merito ai direttori generali noi avremo una vacanza con una rigenza della ASL affidata evidentemente al direttore amministrativo sanitario cioè alla figura più anziana come anzianità di servizio. Questo determinerebbe una ordinaria amministrazione che in questo momento noi non ci possiamo assolutamente consentire. Spero fortemente nel ruolo e nella dignità che la conferenza dei sindaci deve assolutamente avere spero fortemente in una quantomeno risoluzione del problema perlomeno come livello decisionale dei sindaci. L'impressione che ne hanno i cittadini è che questo argomento sia finito nel tritacarne della campagna elettorale per le regionali. Come si fa invece per riportarlo sul piano del diritto amministrativo? Io spero fortemente che ci sia buon senso da parte di chi è chiamato ad amministrare ed è chiamato ad amministrare sino all'ultimo giorno. Anche io devo dire che purtroppo ho questa sensazione però ho sempre detto e penso anche di averlo dimostrato che ci sono argomenti che non devono portare nessuna divisione ideologica.